E cosa ne pensano invece dello stadio? Eh, lì mancano i soldi, quindi. E di riconvertirlo in una sorta di museo del novecento? Di cambiare le funzionalità? I franchi? Non lo so, non ho un'idea precisa. Credo che sarà un problema che non supererà neanche il prossimo sindaco, perché la carenza di danaro è fatale. Che poi i franchi debba essere restaurato, certo non col progetto che avevano fatto. Carlotta. Grazie.